Avete capito benissimo, è stato ufficialmente annunciato il Pokémon Presence per il Pokémon Day, naturalmente al solito orario e finalmente scopriremo cosa ci aspetta in questo 2023 Pokémon. Non aspettavamo altro che questo e adesso si tratta solo di pochi giorni, magari avremo anche qualche leak poche ore prima che rivederà tutto come già è successo negli anni precedenti. E se siete curiosi vi lascio uno short che parla anche di Legenda Arceus in cui lo racconto, ma le aspettative sono alte anche se non troppo e sappiamo bene cosa aspettarci. Ma naturalmente l'annuncio più grande sarà sicuramente il tanto atteso DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, di cui si sente a parlare davvero da prima ancora dell'uscita. E chissà se riceveremo qualche sorpresa come la data precisa del rilascio oppure il nuovo spin off, come un nuovo Mystery Dungeon o Detective Pikachu 2. Tante sorprese ci attendono in questi giorni e saranno davvero pieni e se non volete perdere niente e rimanere sempre aggiornati allora vi ricordo di iscrivervi e lasciare like. Ma adesso non rimane altro appunto che aspettare e sperare. E noi ci vediamo al Pokémon Day!